Sto facendo una cosa di cui mi pentirò Suona 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 Ciao a tutti ragazzi sono Adri Bentornati sul mio canale Questa missione l'ho già registrata Ma sono un coglione Non ho cambiato scena Per fortuna avevo salvato la partita E ricaricandola la posso giocare Quindi credo che anche la giocherò bene Modestamente Like, iscrizione, campanella Andiamo al video Allora siamo rimasti qui praticamente E dobbiamo andare da Manny Ecco Non è un buon inizio Per questo tu mi darei la tua macchina Ok Ok Tiu Deporto Rican Connection ragazzi Manny Escuola Quante volte avrà detto Quante volte avrà detto Manny Escuola Mica, ma quanto cazzo pare l'ho qua? Ok. Oh! Ci ridano una macchinina bella pulita, grazie. Algo Kim Bridge. E quel nome, ragazzi, potrebbe fregarvi, perché... Algo Kim è il quartiere di Manhattan. Ma l'algo Kim Bridge finisce a Manhattan. Ma inizia a Brooklyn. E quindi non andremo nell'isola centrale, tipo... Che culo, lì c'ho la polizia. Abbiamo avuto modo di annusarla, questa isola. Ma alla fine... Ci abbiamo solo riaccompagnato per i boics. Ecco, volevo andare io di lì. Ci vado io. Ecco. Minchia. Che freni. Freni della Kikost qua, ragazzi. Cioè, ma manco con le gomme lisce freni così, eh. Toh! Fa più sgommate del mio culo con la diarrea, sta macchina, vai. Allora, io farei una cosa intelligente. Siccome sta missione è stronza... Ma stronza, eh. Cioè, non so se capite cosa vuol dire stronza. Cercherò un'altra macchina... Prima di iniziare la missione. Tanto polizia intorno non ne vedo, quindi... Ah, è andato così lento. Brava Gesù sull'acqua. Comunque sia. Adesso capirete perché ho cambiato macchina. Perché se no in fondo a questa missione non ci arriviamo. Quando si tratta di treni, ragazzi, che sia GTA 5, GTA 4, San Andreas... Dicevo che si tratta di qualsiasi GTA, ragazzi. E quando c'è il treno di mezzo... Son cazzi, son cazzi. Vabbè, facciamo il domino dato che ci siamo. L'audio a scatti, sì! Ormai ogni episodio... L'audio a scatti è ormai a parte di noi. Fermo, fermo, grazie. Ormai la so la strada. Allora, mi raccomando, spesso lui... Si trova davanti... A una strada morta, quindi della serie... Perché una strada morta è un video. O il gira a destra, o il gira a sinistra, ragazzi. E adesso vedrete... Mamma mia. Ma ce l'avete tutti così da fa? Che andate a giro? Qua a destra, mi raccomando. Perché prima sono andato a sinistra... E sono rimasto fottuto. Dovremmo esserci. Più o meno. Anche qua, palesemente a destra. E subito a sinistra. Armiamoci. Che è la cosa più importante. Pronti, raga? Raga. Cioè, ma di che vogliamo parlare? Vabbè, tu sei un coglione. Ok, si sta andando un pochino a scatto il gioco, in effetti. Ok, ragazzi. La prossima missione sarà per Elisabetta Torres. Però... Ci dovrà chiamare. Adesso ci avremo una chiamata sconosciuta. Piano piano. Cioè, quando vuole lui, la riceveremo. Ecco, non è una chiamata, è un messaggio. Vediamoci in fondo al molo di Castle Gardens, appunto. Allora, dovrebbe chiamarci anche, appunto, Elisabetta Torres. Quindi, magari, prendiamo un taxi. Per tornare a casa. Tu, tu. Tutti fermassi. Ferma. No, no. Dopo un cazzo da fare, c'è, sto qua. Rifugio. Grazie. 35 dollari. Sto facendo una cosa di cui mi pentirò. Suona, 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 suona. Ha, 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 ha. Sì. Ok. Va bene. Eh, Elisabetta, quand'è che ci chiami? Sono andato al retro, sì? Finché di video. Fanno sempre. No, niente, sto girando come un coglione per aspettare questa chiamata. Perché sarà la prossima missione. Perché per primo X. Oh. Oh. Ok, dovremmo andare a salvare la situazione. Però, la prossima volta. Dai, ce l'ho puoi fare, ce l'ho puoi fare. Oh. Dai, sei già stanco. Mamma mia. Te lenni con gli hamburger te proprio, eh. Anche Bruzy. Sì, vandrò a vestirmi bene, non ti preoccupare. Perfetto, noi ci salutiamo. Grazie della visione. Grazie anche del like, perché lo so che l'avete messo. Dell'iscrizione e della campanella. Vi voglio bene, alla prossima. Con Elisabetta Torres, che sta litigando con Little Jacob. Chissà che cazzo è successo. Lo so.